E' finita Domenica Inn e sono iniziate le ferie. Come prima cosa, Mara porta a cena fuori tutta la famiglia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ciao amore di nonno. Ciao amore di nonno. Mara è felicissima di stare insieme a tutta la famiglia. Anche Giaio Claudio gioca con il nonno.